Un appello per la pace in Siria è stato rivolto da Papa Francesco nell'udienza generale in riferimento alla conferenza che si apre oggi a Montreux in Svizzera. Prego il Signore che tocchi il cuore di tutti perché, cercando unicamente il maggior bene del popolo siriano, tanto provato, non risparmino alcun sforzo per giungere con urgenza la cessazione della violenza alla fine del conflitto che ha causato già troppe sofferenze. Auspico per la cara nazione siriana un cammino deciso di riconciliazione, di concordia e ricostruzione, con la partecipazione di tutti i cittadini, dove ognuno possa trovare nell'altro non un nemico, non un concorrente, ma un fratello da accogliere e da abbracciare. Nella catechesi dell'udienza generale Papa Francesco ha parlato dell'ecumenismo in occasione della corrente settimana di preghiera che si conclude sabato. Parlando della lettera di Paolo ai Corinzi sulle dispute nelle comunità cristiane, Papa Francesco ha sottolineato che le divisioni indeboliscono la credibilità e l'efficacia del nostro impegno di evangelizzazione e rischiano di svuotare la croce della sua potenza. Paolo rimprovera i Corinzi per le loro dispute, ma anche rende grazie al Signore perché in Cristo abbiamo ricevuto molti doni. L'insegnamento di San Paolo ci ricorda che siamo figli di Dio per mezzo del battesimo e siamo discepoli di Gesù che portano la croce e lo seguono, ma al di là delle nostre comunità ci sono altri figli di Dio, altri discepoli che come noi sono stati chiamati ad essere santi.